bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo in the friends e oggi siamo qui sul server del minecraft ok, no, come l'abbiamo detto brutto ok, lì c'è il nostro bellissimo stadio no, io ci torno dentro perché dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto ci devo tornare dentro cioè andiamo a godere un attimo vedete l'entrata e fra c'è il tuo letto, c'è un pirla scusate, rifai dobbiamo rifar tutto ciak, tre eccoci qua, benvenuti a questo bellissimo stadio fatto nel 2015 di legno compiuto con tanto legno disboscando fra senti senti sai che non è finito lo stadio la vedi? cosa hai detto? vedi questo pietrisco no fra ho 19 di esperienza maiale no fra sto morendo e ho 19 di esperienza oh merda vabbè voi non avete visto niente e adesso andiamo dai villager ok raga come intrappolare un mimico ok dai raccogliamo un po' di grano dai fammi uscire fammi uscire non posso spaccare se no picchio il villico ripiazza io raccolgo un po' di grano dai nostri amici villici io controllo che non disponi raga fra sto tornando con il grano mai notte io lo devo coprire da qui appena supererò la montagna se supererò mai la montagna oh no i villager sono a rischio di vita per colpa nostra dai veloci metti giù il letto ho letto no meno male ma ce l'avevo dietro io adesso mi trova pure difendere il villaggio senza spada si solo con 19 frecce non riesco a correre mangia mangia e corri sono a 230 metri di nico ma se non riesco a correre troppo tranquilla arrivando nico io ho il mio letto però e anch'io il mio o meno male allora potevamo dormire sto per superare la montagna ok io ti copro 66 metri sono dietro la montagna eccomi e non ti vedo sono qua coglione sono arrivato no ho lanciato una freccia dormi veloce ho lasciato il letto là in alto ok recuperate la freccia ho ancora la chat della skyblock ok minecraft ok minecraft pazzed non is crasciato is pazzed muoviti dormi muoviti dormi magari prima che tutti gli zombie diventano quindi raga abbiamo necredito non c'è un cavolo di convenienza quindi andremo in caverna per cercare l'ultimo diamante per farci piccone andiamo a prepararci scaviamo sotto i villaggi con il nostro stadio a sinistra che è la parte più bella del tramonto infatti adesso noi andremo a dormire poi partiremo una ricerca di diamanti andremo scavare sotto i villaggi perché in teoria ci dovrebbero essere le famose miniere io devo fare il letto aspetta un attimo prima che dormiva ok start to scav raga carbone ok raga abbiamo trovato lava aspre ok non fare credevo che ok raga ha risolto il problema lava ehm non ha risolto mica tanto aspetta un attimo no voglio vedere ok adesso si con l'alimentario ferro fammelo vedere eccolo lì può tornare ok raga ci rivediamo io andrò di qui e fra andrà dalla quarta costa fra ha trovato carbon e io ho trovato gold ho trovato un gol fish un pesciolino oro ok oro si e il pesciolino ok possiamo andare avanti a scavare carbone il 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 carbo il ok raga frattuato aiole senti ho trovato una caverna che sono da esplorare attento a quanto entri e si ma lei stia lì pure tranquillamente raccogliere la tua roba cioè all'texto non c'è un bucconiore termine mince non altro fratti circondati da scheletri ok cascao scherzo che toriet report al tuo ribadisco quello che ha detto nico ok ok ora io piaccio la torcia presto aglio fratto morendo non sto attaccando più la ceo oro ok non si può chiudere sta acqua ma c'è altra lava c'è troppa lava help ok arrivo lo stai? ok 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 va bene antisa diamanti capislazzoli quanti livelli hai? 21 19 vediamo di non crepare ok raga non facciamo vogliate 2 3 3 diamanti subito a casa sì sì assolutamente madonna santa tu chi cazzo diamanti 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 aspetta che metto tutto al sicuro diamanti c'è un problema rischioso questo diamante lo sono riuscito a salvare però diciamo che sotto di quello ci potrebbe essere la lava scava un altro blocco no sotto quel cosotto quello no tappa adesso scava ok io ne ho quattro e tu dovresti avere uno teoricamente raga come se l'ultimo sono domani via tutti i diamanti siamo a case è il momento di craft nupicoz 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 cazzo è sardo ah di diamante adesso ce ne scappiamo in aramai e alcune ubicoz ok raga c'è il portale là dietro quella fantastica costruzione c'è il portale e io la cerino che sembra un accendio di sigarino ma allora ce l'hai vaffanculo me l'hai fatto fare per niente mi si è droppato adesso abbiamo due cerini che sembra tipo quello per accendere le sigarette ecco quel portale et voi là non c'entrare ah si bravo brucia non c'entrare ok perché francesco dice così fa scena così fa qui così farà quindi ragazze il video vi è piaciuto commentate iscrivetevi e noi ci vediamo nella prossima con un nuovo video dalla raga fra però io dentro voglio farci un salto fuori telecamere non farci un salto telecamere spente so che sta registrando non si può provare non sto registrando ma si che sta registrando no stoppate il video schifo ah giusto la velocità entra prima te va io sto già entrando perché vedo contemporaneamente per teori mi fa scaricamento del terreno wow è crashato ma in no in banca abbastanza 10 ce l'hava come dire né come dire è ragione una bestemmia si ma si ma da parte qui cazzo c'è un ghast ciao io non ci sono più non ne voglio sapere niente ok quando spawneremo durante il prossimo video dobbiamo stare attenti perché se cadiamo a destra ci sono metri e metri di lava no 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 non ci voglio ritornare va buona fra che cazzo ci fai fra 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 Grazie a tutti.